Eccoci qua signore e signori, questa è la Playa Manzanillo, una spiaggia vicino a Playa Lagoa, come potete vedere il turismo è assente, in realtà è assente anche il mio amico perché purtroppo sta male, è caduto in battaglia. Comunque noi continuiamo la nostra caccia alle spiagge, spero di potervi far vedere un bel posto. Qui siamo all'Isla Margherita, come vedete il paesaggio è veramente molto molto bello, un'altra delle tante spiagge che ci sono qua in giro per il Venezuela. A voi la Playa Manzanillo. Grazie.